Chi mi conosce sa che io uso raramente termini come impressionante, clamoroso e via dicendo però quando lo uso c'è un motivo di fondo molto 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 importante proprio ieri ho pubblicato un video dove appunto andavo a descrivere nello specifico, ero in palestra mentre mi allenavo, ho detto ok dovete allenarvi a riconoscere dinamiche, pattern come quello che vi spiegherò in questo video questo video l'ho caricato ieri lo stesso giorno, proprio neanche a parla apposta, dopo aver caricato quel video mi sono messo, sono ancora in vacanza, sono ancora in una situazione ovviamente non di operatività al 100% mi sono messo con il mio portatile a guardare cosa c'era, se in realtà ci fosse qualche occasione importante ed ho trovato, indovina un po', esattamente quella identica dinamica che si ricostruiva davanti ai miei occhi e che mi ha portato a portare a casa una sessione fantastica ti faccio vedere, ti spiego di cosa sto parlando ma ti consiglio soprattutto di andarti a guardare quel video appena finito questo te lo metterò nei consigliati perché capirai, metterai insieme i tuoi video e capirai che tipo di contenuti ti porto in questo canale quindi anche tra le altre cose iscriviti così, non ti perderai il prossimo video bomba ora, cosa succede ieri? succede che c'è un'azione che inizia a correre, si chiama ALZN, è un'azione biotecnica, quindi azione di biotecnologie siamo, nelle ultime mail che io ti ho mandato, se sei da mia mail in lista e non lo sei, entraci subito ho un pochino fatto, sono stato un po' un preludio a questa operazione di ieri che succede? succede che c'è questo potenziale focolaio, potenziale una preoccupazione in realtà più che potenziale riguardo a questo baiolo delle scimmie, questo monkeypox il mercato smoke up vive di temi, ok? c'è stato quindi questo tema che sta crescendo quindi preoccupazioni intorno al baiolo delle scimmie, questo monkeypox questa potenziale, speriamo di no, nuova pandemia e cosa succede? succede che le azioni biotech quindi azioni di biotecnologie, quindi si occupano di dispositivi medici o di comunque anche vaccini, insomma quel settore lì stanno trovando momentum, ma attenzione quindi stanno entrando soldi speculativi su questo tipo di azioni così si muovono i mercati, no? con gli strumentini che ti raccontano i supercazzole si muovono così, seguendo il flusso dei soldi che succede? succede che per un'azienda di biotech che quindi non ha un prodotto, non ha cuore di mercato, non è profittevole ha problemi di cassa, molto molto probabilmente questo è il momento giusto per buttare fuori una notizia che magari avevamo già nel taschino e sfruttare questo momentum, questa attenzione che c'è sul settore biotech per far correre anche la propria azione quindi creare questa inefficienza che dico sempre questa spinta enorme del prezzo e fare cassa poi, capitalizzarla magari con una offering raccogliere soldi, l'azienda ha l'obiettivo di raccogliere soldi vendendo azioni ai malcapitati che pensano di aver scovato la nuova Apple ora, in questo scenario ieri c'erano diverse azioni che si muovevano ho visto c'era APLD se non sbaglio c'era VRAX c'era sicuramente la nostra azione ALZN se non sbaglio il ticker cosa succede? succede che vado a vedere le informazioni oggettive, come dico sempre, il mio processo è fatto di informazioni oggettive che posso vedere nero su bianco vado a studiarmi cosa sta accadendo e subito, subito intravedo il pattern che ho spiegato nel video di ieri pazzesco no? ti carico un video su YouTube e ti faccio vedere il giorno dopo oggi come quella stessa, quella dinamica viene catturata e monetizzata da un professionista come me perché questo? perché vado a vedere che questa azione ha un fluttante molto piccolo cioè ha un numero di azioni disponibili per la libera contrattazione molto ristretto sotto il milione potenzialmente questo mi fa sempre pensare, mi fa sempre andare a investigare un po' di più per capire perché hanno un fluttante così piccolo un numero di azioni disponibili per la contrattazione così piccolo e quello che trovo è un reverse split e qui, boom, apriti cielo siamo pienamente nella dinamica che ti ho spiegato in quel video perfetto so che hanno fatto un reverse split quindi hanno voluto appositamente diminuire, contrarre il numero di azioni che formano il fluttante quindi l'offerta sul mercato perfetto, interessante c'è un tema che è quello appunto di questo monkeypox di questo baiolo delle scimmie perfetto l'azione sta spingendo fantastico andiamo a vedere la notizia e la notizia qui, apriti cielo è la basilarante sono praticamente... è la stessa identica notizia su una fase 2 sai che per l'approvazione dell'FDA, di farmaci, dispositivi medici e quant'altro ci sono diverse fasi di approvazione FDA questa è una notizia sulla fase 2 ma non era uscita solo una volta l'hanno fatta uscire per tre volte di fila in tre giorni diversi, in settimane diverse cercando proprio di trovare il momento in cui quella notizia avrebbe attecchito praticamente hanno lanciato hanno lanciato delle freccette cercando di far centro e ieri si sono riusciti perché? perché c'era tutto il settore c'era tutta l'hype di questo potenziale nuovo problema e quindi c'era soldi che entravano nel settore biotech nelle biotech, small cap per andare a capitalizzare queste salite impressionanti indovina un po' cosa ho fatto ho fatto quello che ti ho detto in quel video ho messo tutto insieme e ho identificato una classica un classico schema, un classico caso un classico esempio di reverse split pump ossia reverse split fatto dall'azienda quindi hanno abbassato il flottante per permettere la domanda che sarebbe entrata con la notizia, con la news questa volta è riproposta tre volte ma comunque con la news di poter spingere l'azione in su manipolare, far arrivare a un 700 quasi per cento una percentuale enorme di rialzo e andare così a far cosa poi dopo a vendere l'azienda azioni cosa ho fatto io? non te lo dico a parole te lo faccio vedere guarda qui a schermo ti metto l'operazione che ho fatto l'ho registrata ok? sono riuscito a registrarla sul mio laptop sono entrato alla prima possibilità utile ossia aspettato che il prezzo spingesse mentre il prezzo spingeva io non mi sono messo a rincorrere io ho fatto quello che devo fare mi sono messo a fare ricerca due diligence capire cosa succedeva quando ho avuto tutti i tasselli al loro posto e vedevo che era l'azione che spingeva di più con più volume più volume che entrava velocemente tanta domanda e poca offerta dovuta anche al fatto che il flottante era piccolo sono entrato long e non ho dovuto fare altro a quel punto di aspettare che il prezzo spingendo mi andasse a prendere i miei profit ho aspettato poi paziente nella parte centrale dell'operazione e questo è importantissimo se io ho una lettura devo a darle il tempo di andare a svilupparsi però cosa ho fatto? se guardi bene ho preso profitto cioè non ho aspettato con tutta la size io sono entrato con della size ho costruito la mia opera la mia size la mia operazione la mia esposizione ho preso profitto che mi permetteva di rimanere tranquillo per aspettare poi che l'operazione andasse a sviluppare ancora il suo EV per andare poi bam a spingere in open e prendermi l'ultimo profit in realtà in realtà ho chiuso molto presto rispetto a dove è arrivata ma non mi interessa avevo pianificato così la mia operazione ho fatto un ottimo profitto per un'oretta di trading in vacanza è più 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 che sufficiente va benissimo ma il prezzo ha spinto in modo impressionante dopo che sono uscito qualcosa ho fatto però ho chiuso il cerchio come ti dicevo in quel video di ieri ho chiuso il cerchio ok sono andato a fare short sale quando? su un movimento parabolico cioè una volta che una volta che la domanda è entrata ha sviluppato la spinta gli short che erano praticamente quelli che mi hanno fatto fare profitto cioè quelli che a cui io ho venduto e loro sono dovuti ricoprire in perdita sono stati squizzati compratori naturali anche questo ne parlo sempre nei miei video perché sono le vere dinamiche che muovono i mercati non i pallini colorati ok queste sono le vere dinamiche che muovono i mercati psicologia comportamentale ok le dinamiche di mercato di market making i short vengono squizzati il prezzo spinge va in alto va parabolico a un certo punto finirà la trazione proprio dei compratori naturali dei venditori che vengono squizzati e devono ricoprirsi e a quel punto appena vedo che il prezzo rallenta bam posso colpire short come stai vedendo poi vi faccio vedere anche questa operazione registrata piano piano metto size poca size perché c'è tanto range vedi uso poca size perché posso sfruttare tanto range cosa che quando vai long io non lo so quindi cerco di magari caricare la size per prendere profitto anche tra virgolette veloce e metterlo in cascina e poi far andare il resto quando vado short io lo conosco il range lo vedo perché il prezzo ho già espanso il range cosa che quando sei long tu cerchi l'espansione del range quando sei short tu il range già l'hai visto perché è già stato espanso quindi a quel punto io so il range posso calibrare perfettamente il mio potenziale stop e usare la size giusta per andare piano piano senza fretta a capitalizzare il range potenziale che l'azione vuole darmi vado a short prendo profitto e lascerò poi andare ancora un po' l'operazione verso un ottimo 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 gain quindi come vedi quando ti dico che una ti posto un video con scritto impressionante potentissima fantastica e quant'altro è perché lo è veramente non uso mai queste parole a caso e la cosa più divertente è proprio che quando quel video ancora doveva uscire io l'avevo registrato giorni prima ma ancora doveva uscire io avevo già capitalizzato quella stessa identica dinamica e soprattutto ci tengo a ribadire questi sono questa è la qualità la profondità e soprattutto l'utilità dei contenuti che porto in questo canale quindi fai due cose la prima è anzi tre cose la prima è commenta qui sotto se hai qualche dubbio vuoi che approfondisca qualche concetto fondamentale di quelli che ti ho detto la seconda è iscriviti al canale perché il prossimo video magari te lo perdi e ti spiego una dinamica ancora più potente la terza cosa è guarda subito questo video il video di ieri perché metterai insieme tutti i pezzi insieme con questo e ti porterai a casa una dinamica potentissima grazie a tutti